E' bella ragazzi qui è The Mythic Zeus che vi parla e aspettate che sistemo le cuffie No infatti non ci sono riuscito nemmeno oggi a fare l'intro decente Insomma dicevo bella ragazzi qui è The Mythic Zeus che vi parla e benvenuti al sesto episodio Di questa prima stagione di Minecraft, Minecraft Vanilla Che non lo dico mai Allora, quindi visto che non lo dico mai La serie la chiamo Zeus a Minecraft, credo, senza Vanilla Perché non lo dico mai Allora, in questo episodio cercherò di fare più cose Visto che nell'altro non ho fatto proprio un cazzo L'ho rivisto, me so addormentato, tipo a 3 minuti e me so risvegliato a 15 No, non è vero, sto scherzando Allora, in questo episodio ci affoghiamo in piscina No, allora in questo episodio ci prepariamo per la caverna nel prossimo E quasi... e anzi va... mi sta venire la cosa di andarci subito in caverna No, non siamo pronti Allora, la prima cosa che vorrei fare è fare delle torce Anche pure stavo a dire Pure per la casa La torce si fanno con i bastoni e il carbone Prendiamo il carbone, prendiamo i bastoni Facciamo torce Allora, le torce come potete immaginare servono per illuminare la casa E... le illuminazioni sono molto importanti E mo le mettiamo un po' alla random, così Tutte buttate così E le illuminazioni sono importanti perché Tutti i punti... le ombre che ci sono Sono potenziali spawn per i mob Quindi per evitare che vi spawnano dentro casa Mettiamo un po' di torce Un po' di torce Mettiamo un po' di torce qua in mezzo E mo adesso le mettiamo un po' dentro casa Così senza senso Giusto per fare un po' di luce Per evitare sorprese quando ritorniamo Ci sono già finite Vediamo se su è buio Oppure abbastanza illuminato No, è buio Almeno un paio ci servono E tanto, vabbè, poi tanto il carbone si ritrova subito Quindi non è un problema E allora, in questo episodio L'ho già detto Lo facciamo in questo episodio Perché lo ridico Eh, dove stanno i bastoni? Stanno là Riprendiamo i bastoni Riprendiamo il carbone E facciamo le torce Andiamo a rilluminar sopra E come vedete Ho anche sistemato il soffitto Ditemi se vi piace È un soffitto di legno Normalissimo L'ho fatto tutti così I pavimenti Quindi ho fatto pure il soffitto Pavimenti e soffitto tutti così Questa è squadra Vabbè, sì, è vero L'ho fatto apposta questo Allora, tranne il primo piano Che l'ho fatto così Perché mi sembrava più Eh Più boh Quindi l'ho fatto così Rimangiamo Gli attrezzi Sì, ce l'abbiamo Ci abbiamo i bastoncini Pure per i fa I materiali Come vedete Ho raccolto altra legna Perché quella non bastava Per il sopra Perché ho preso questi Pollo qua Dovremmo cuocere anche questi A proposito Ho messo a cuocere questi In un altro episodio Sì, è fatto E allora In questo episodio Intanto credo che Visto siamo tirchi Ci portiamo per la caverna Sia la fornace Sia la fornace Eccola Che Sì, vabbè Col piccone Questo piccone di legno Non mi finisce mai Sta sempre al minimo E allora Ecco Ce li portiamo Perché siamo tirchi E ci portiamo pure No, che ci portiamo A fare il carbone Ce lo troviamo sicuramente Allora, subito La prima cosa Che troveremo è carbone E poi ho già visto Del ferro là E un'altra cosa Che voglio fare Intanto facciamo un Un paio di Casse Sì Facciamo un paio Di ceste Stollag Ne facciamo Un paio Quante volte Lo devo dire Ne facciamo un paio Ne facciamo un paio Ne facciamo un paio Ne facciamo un paio Basta Ecco Abbiamo fatto queste due Che le mettiamo Qua Come sempre Che mi dimentico Sempre di chiedervelo Ditemi Se secondo voi Sto migliorando Se Sto peggiorando Se sto sempre uguale E Ecco tutto Allora Ecco Andiamo Sto all'agga Allora Mi dice sto andando a 16 fps No sto all'agga 42 40 Perfetto E visto che non so per quanto altro tempo il pc mi regge Io dico di andare subito in questo episodio in caverna E poi magari male che va ve lo taglio in due parti questo episodio Si Mi sa che faccio così si In caverna in due parti Ma no no Che vi Aspettiamo un attimo Allora La piscina non possiamo Sto a fare come un altro episodio Che possiamo fare Dobbiamo andare per forza in caverna Si Si per forza in caverna Allora Non mi fate Non voglio andare subito in caverna Perché poi Negli altri episodi Poi è la stessa cosa Che non so che fare Perché Poi altre cose Voglio andare Voglio andare nel nether All'inizio Il primo episodio della seconda Però Boh Allora Poi vi dico subito Che nel prossimo Lex build Faremo questo Questo pezzo Mettiamo l'ombrelli Le sdraie Queste cose qua Nell'ex build No Prima facciamo la piscina Dopo quella Oppure possiamo fare tutte e due insieme Nello stesso episodio Dopo facciamo la torre E Diciamo che ci servono un bel po' di materiali Per l'impianto e cucina Da solo E Basta Che altro c'era? Ah si La siepe intorno Poi la faccio io con calma A telecamere spente Perché Non mi sembra un Lex build Abbastanza Cioè Non Non vedo il Il senso Di Fa un Lex build Anche velocizzato Oddio che metto Una siepe qua intorno Quindi la faccio io con calma Ah per raccogliere le foglie Appunto degli alberi Sto allagga troppo 44 FPS Allora se volete Sapere con che registro Registro con Fraps E per le foglie Vedete tipo io Rompo una foglia Ma Ma come vedete Non Non succede niente Cioè Non mi da la foglia Per rompere le foglie Bisogna usare Le forbici Le Come le chiamate Le cesoie qua Per fare le cesoie Ci servono due pezzi Di Dove sta? Ah si è vero Ce l'ho qua Ci servono due pezzi Di ferro Messi così Facciamo le cesoie Quindi In questo episodio Sarà la preparazione Per Per la caverna Si La chiamo così Anche se Siamo a fare tutto Le foglie in caverna Non vedo l'utilità Delle foglie Per la caverna Però facciamo così Lo stesso No Allora Prendiamo le foglie Di un albero Che mi piace Che non le voglio Non lo voglio Fa così il contorno Ma Ah Un'altra cosa Mi ha fatto Venire in mente Sta pecora Un'altra cosa Che possiamo usare Per Con le forbici Non te ne andà E un pezzo Una forbice Perché ho aperto T Ah si Mi sono un po' divertito Volevo vedere Se stufava Dimmi Puoi dormire solo Di notte E mi faccia dormire Uguale Allora Tasto destro Sulle pecore Ci da tre pezzi Di lana Due Ah due o tre Poi la lana Rigresce Ma guardate Il mucco La faccia Di Di questa pecora Te viene da Tipo Non ammazzarle Perfetto Allora Si Mi sembra Due o tre Rifacciamo La lana Può sempre servire Qua ce ne date Si O due o tre Questa però La lascio E voglio vedere Se poi rigresce La lana Sperando che non si allontana Potrei fargli un recinto Qua intorno adesso Ma non mi va E allora È notte Andiamo a dormire E poi vi faccio vedere Arriviamo a casa E andiamo a dormire E vi faccio vedere Ho ripetuto la stessa cosa Qua poi Vi ho detto Le torce Qua le sistemo Un po' meglio Ma è solo per fare Un po' di luce Vi da brutte sorprese I mob Che Che c'erano Un po' nei coglioni Poi se siamo qua E rientriamo tipo uno Oddio ecco Sono tornato Mi immagino già la scena Io che ritorno Dalla caverna Oddio ecco Sette diamanti Adesso Affan Oddio No Oddio che colpo Stavo proprio a dire Mi immagino Io che ritorno Dalla caverna Ecco Ho preso Sette diamanti Creeper di merda No 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 Mannaggia i creeper Mannaggia la mamma del creeper Ma ha rotto pure le porte Ah no Le porte le abbiamo presi E sta pure a lagga Il creeper è esploso E lagga il gioco Che significa Sta cosa Scusate Allora Vediamo se ci Se ci bastano Qua per Mi sa che non ci bastano Nemmeno Mi sono alterato Sof triste Mangiamo E sta Stam a lagga Sta a lagga Il gioco E mi sa che Chiudo qua Ragazzi Risistemiamo le porte Creeper di merda Stavo appunto a dio Me lo sentivo Qua Sta a lagga Non ce la faccio Quindi mi sa che Stoppo qua il video Ecco La preparazione Si Stupenda Questa preparazione Per Per la caverna No Questa casa Così è più bella La casa Guardate E niente Io continuo a darmi I cazzotti Sulle cuffie Così Vediamo Ce l'ho La neve Si un po' De neve Qua ce l'ho Intanto Chiudiamo Qua Si No Sta a lagga Chiudo il gioco Sta a lagga Finito qua Appena Sto pezzetto Non so se poi lo vedete Che youtube Carica 30 fps In automatico Però comunque Si vede Che sta a lagga Quindi Io Chiudo il gioco Non ce si riesce Proprio Non ce si riesce Proprio Quindi Ha scoppiato il creeper E sta a lagga Quindi niente Prima che crasha Minecraft Mori dico pure questo Che risuccede Ricrascia per davvero Prima che crasha Minecraft Anche per oggi È tutto Sta a 1 fps Ma non è 8 9 No 1 Non ce si riesco Qua a giocare Ragazzi Quindi Vi saluto Anche per questo episodio È tutto Scusate Non abbiamo fatto niente Vi ho fatto vedere Come si raccolgono le foglie No non è vero Siamo andati a dormire Vabbè con le cesoie Qua si è proprio impallato 0 fps 1 Sì Vabbè Subito Allora Vi dicevo Sta laggando E quindi Sta laggando Quindi Io vi saluto Vi saluto Per questo episodio È tutto È bella È bella Grazie a tutti.